qui è una marea di benessere di benessere salute questo bellissimo parco sempione che qui siamo in zona praticamente una zona bellissima troppo bella tutta da esplorare soltanto che il parco molto lungo non so se sono lunghi cioè se lungo tipo dieci chilometri quello che è però io non ecco tempo che poteva andare a prendere il mio parente da fisioterapista quindi non ho tempo cioè tra poco devo ritornare però mi sono goduto questa bellissima passeggiata breve ma molto sostanziosa e significativa dedico questa passeggiata la gente calma natura come me e niente voluto condividere questo bellissimo video in mezzo alla natura ciao ciao a tutti